Ciao ragazzi, benvenuti. La Ultra FIAR, anche quest'anno nella gamma 18-19 di capita, torna con lo stesso shape, la stessa costruzione dell'anno scorso, una grafica totalmente rifatta, a mio parere estremamente figa. Tra l'altro noi abbiamo l'edizione speciale, un'edizione Japan, con il fianchetto rosso, ce la tiriamo veramente tanto per questa cosa. È una tavola park jibbing, quindi orientata al rider che vuole cazzaggiare un sacco, vuole, insomma, macinare a trick tutto il giorno in parco e in pista. Ha comunque una discreta tenuta per una tavola della categoria, grazie alla costruzione di altissimo livello e ad alcuni accorgimenti, come la soletta sinterizzata, che è molto molto veloce, un inserto in titanio che corre da punta coda per aumentare il pop, renderla un pochino più reattiva, un pochino più elastica e più sicura anche negli atterraggi, mentre il camber, che è un camber piatto in mezzo agli attacchi, con grosse zone rocker in punta e coda, è quello che le dà tutta la giocosità, la facilità di utilizzo, di, insomma, impostare le manovre, correggere eventuali errorini, atterrare dalle rotazioni, con una facilità veramente totale. È una tavola, quindi, che si rivolge al rider che ha sempre in testa i trick, le evoluzioni. Come dicevo prima, ha una buona versatilità e resta comunque un prodotto abbastanza specifico, quindi va scelto se avete, come dicevo prima, chiaramente l'idea di passare gran parte della vostra giornata in park. Se avete qualche curiosità in più, potete scriverci senza problemi qua sotto nei commenti, sui social oppure per email tranquillamente. Se invece volete provarla, di tanto in tanto ci sarà la possibilità ai nostri eventi, datone anche sul sito per vedere a quali uscite sarà disponibile. A presto! Boom!